un attimo soltanto un attimo soltanto giuseppe per favore e buongiorno a tutti benvenuti al webinar di oggi che sarà condotto dal dottor giuseppe mazzotta e che rientra nel progetto delivery unit nazionale che fa parte del pond governance e capacità istituzionale e che form gestisce per il dipartimento della funzione pubblica il webinar di oggi e prenderà in esame il piano nazionale di ripresa e resilienza e la digitalizzazione delle procedure di gara come ogni volta sapete che avrete la registrazione già nel pomeriggio e le slide presentate dal dottor mazzotta vi invito a scrivere in chat le domande e portare il vostro contributo alla ai lavori della giornata e provvederemo poi a girarle al relatore e in genere preferiamo lasciare l'ultimo periodo della presentazione l'ultimo quarto d'ora per la risposta alle domande ma voi scrivetele di volta in volta perché se ci sono argomenti da affrontare durante la presentazione sarà cura del relatore affrontarle e detto questo io passerei la parola al dottor mazzotta io sono qui in back quindi scrivete in chat se ci sono problemi e proveremo comunque ad assistervi buon lavoro io mi chiamo giuseppe mazzotta e sono un avvocato esperto di contrattualistica pubblica quest'oggi ho il piacere di intrattenervi sul piano nazionale di ripresa e resilienza e la digitalizzazione delle procedure di gara l'incontro odierno si inserisce nell'ambito di un ciclo di seminari di webinar portati avanti da formes nell'ambito del progetto delivery unit nazionale al fine fondamentalmente di rafforzare le capacità delle amministrazioni in particolare la finalità è la riduzione degli regolatori di tempi dell'impresa e quindi la semplificazione delle norme e delle procedure e comunque dell'attuazione delle misure di semplificazione disposte dal legislatore questo è il quinto webinar del ciclo gli altri li trovate sul sito formes e comunque ne seguiranno ancora degli altri allora il nostro incontro odierno parte dal piano nazionale di ripresa e resilienza il piano nazionale di ripresa e resilienza e come tutti voi sapete nasce fondamentalmente dall'esigenza di riparare quelli che sono stati danni economici e sociali della crisi pandemica quindi il primo obiettivo reale del del pnr è dare una risposta concreta alla dare una risposta concreta alla crisi pandemica in termini economici con un sostegno economico molto corposo in realtà questo obiettivo però si inserisce in un contesto molto più ampio infatti il pnr lo trovate nella slide gli indicati come obiettivi chiave e in realtà il pnr e si inserisce anche in quello che è il discorso della sostenibilità ambientale la sostenibilità ambientale è una delle priorità della commissione europea e proprio per questo motivo la sostenibilità ambientale che poi rivedremo successivamente nel corso del nostro incontro è un elemento fondamentale un tema chiave un tema chiave sul quale è impermeata tutta l'attività della pnr tenete conto che peraltro il piano nazionale di ripresa e resilienza si inserisce in quella che è il green deal in quello che sono il quello che è l'accordo di parigi le tematiche dell'accordo di parigi per cui la sostenibilità ambientale tutti gli interventi inclusi nella il pnr è un elemento fondamentale ci tengo a precisarlo perché è un elemento di quelli che vengono considerati come condizionalità del pnr terzo obiettivo chiave della del piano nazionale di ripresa e resilienza è chiaramente quello di contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana è chiaro che la ragionamento non poteva prescindere dall'affrontare quelle che sono le carenze strutturali del paese quindi tanto in termini di organizzazione quanto in termini di strutture infrastrutture quindi il tre obiettivi chiave perché cosa per ottenere che cosa un paese più innovativo e digitalizzato aperto ai giovani alle pari opportunità rispettoso dell'ambiente e coeso territorialmente quindi tre obiettivi con delle finalità ben precise a fronte di queste finalità il pnr bisogna dire che nasce da una da un'esperienza l'esperienza della gestione dei fondi strutturali un'esperienza della quale l'italia è ben conscia abbiamo avuto esperienza abbiamo avuto esperienze sia positive che negative purtroppo proprio alla luce di queste esperienze il legislatore nel dover definire quello che era il modello organizzativo e di governance della 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 pnr ha inteso dare un modello organizzativo che fosse articolato su un duplice piano su un duplice e modello organizzativo di fini diciamo articolato su due livelli due livelli di gestione un primo livello di gestione che poi vedete in azzurro è dato dal presidio e coordinamento è un secondo modello di gestione è dato dall'attuazione allora e sono è stato un modello proprio finalizzato strutturato e impostato col decreto legge 77 del 2021 il decreto legge cosiddetto pnr governance pnr ma anche semplificazione bis in quanto alla fine è un è un decreto legge che ha toccato diversi aspetti della del pnr quindi nel primo o nella prima fascia di presidi diciamo di gestione quella presidio e coordinamento trovate il la presidenza del consiglio dei ministri la presenza del consiglio dei ministri che è la presenza del consiglio dei ministri che attraverso la cabina di regia garantisce al massimo livello di responsabilità politica il controllo sull'attuazione del pnr la cabina di regia che è strutturata dalla è composta dal presidente del consiglio dei ministri e da tutti gli altri ministri che di volta in volta sono interessati ha un ruolo fondamentale perché è proprio alla responsabilità politica ma anche il controllo sull'attuazione del piano e alla cabina di regia che riportano tutte le varie strutture di di presidio che sono state istituite quali sono queste strutture di presidio innanzitutto la segreteria tecnica e quindi il l'unità per la razionalizzazione il miglioramento dell'efficacia e della regolazione sono due strutture tecniche di supporto che si interfacciano anche con un altro soggetto un altro organismo che è stato istituito in fase di conversione del decreto legge 77 si tratta del tavolo permanente del partenariato economico sociale e territoriale il tavolo permanente ha il la finalità di consentire il confronto strutturato con continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali diciamo che come vi dicevo in premessa il la partenza la il pnr prende spunto dalla dall'utilizzo dei fondi strutturali in ragione di ciò non può non avere quell'esperienza una importanza notevole e quindi anche un rilievo e un impatto fondamentale in tutto quello che è la struttura organizzativa una delle carenze più grosse che c'erano con i fondi strutturali è stato proprio lo scollamento rispetto alla alla rapporto con gli enti territoriali e le parti sociali accanto a questa alla cabina di regia quindi all'unità per la razionalizzazione la segreteria tecnica che sono gli organi di supporto al tavolo permanente che vi ho detto c'è il soggetto che di fatto è responsabile del pnr la responsabilità del pnr infatti è affidata alla al ministero dell'economia e delle finanze in particolare alla servizio centrale per il pnr il servizio centrale per il pnr è un servizio della ragioneria generale dello stato attualmente il coordinatore il dottor di nuzzo e proprio alla servizio centrale per il pnr spetta il coordinamento tecnico di tutto quanto è il l'attuazione poi del pnr e la importante che voi sappiate anche che il servizio centrale per il pnr si avvale del sistema informativo della ragioneria generale dello stato in particolare si chiama regis e che consente di monitorare gli interventi in questo modo c'è un monitoraggio costante e puntuale da parte della ragioneria dello stato e passando alla fase di attuazione del pnr l'attuazione è demandata alle amministrazioni centrali dello stato amministrazioni centrali dello stato che hanno istituito delle unità di missione presso ciascuna di esse queste unità di missioni garantiscono il controllo il monitoraggio quindi si fanno riferimento e sono il trade union con il servizio centrale per il pnr del mef del ministero delle economie delle finanze e sovrintendono anche al controllo della attuazione un attuazione che può essere o direttamente da parte dell'amministrazione interessata o altrimenti attraverso soggetti diversi dall'amministrazione a tal proposito i soggetti diversi dalle amministrazioni centrali saranno chiaramente le regioni e gli enti locali regioni enti locali che è importante precisare avranno un ruolo fondamentale avranno un ruolo fondamentale hanno bisogno di essere supportate proprio a tal proposito una delle prime priorità da raggiungere da parte del pnr e che è stata conseguita nel primo semestre del 2021 è stata quella di fornire un supporto alle amministrazioni regionali in particolare si tratta dei mille esperti del pnr ritengo che abbiate avuto modo di seguire la vicenda e grazie alla pnr già dal primo di gennaio ci sono tra ci sono il mille esperti che supportano le pubbliche amministrazioni regionali è chiaro che mille esperti non saranno sufficienti per risolvere i problemi dello scostamento dalla difficoltà che le amministrazioni regionali e locali potranno avere nell'attuazione del pnr infatti a tal proposito vi anticipo che è proprio prendendo spunto da quelle che sono le interlocuzioni con le amministrazioni locali e regionali in particolare per quanto attiene alle alle diverse audizioni che ci sono state e in sede parlamentare interlocuzioni con i rappresentanti della sia dell'anci dell'associazione delle province piuttosto che con la rappresentanti delle regioni verosimilmente ci sarà una una nuova nuovo decreto legge di semplificazione finalizzato proprio a snellire le procedure a snellire le procedure per gli enti locali e regionali e per assunzioni e collaborazioni di diverso tipo ma anche per snellire quelle che saranno le procedure di per l'affidamento dei degli interventi detto ciò quindi il modello organizzativo presidio e coordinamento e attuazione sono i due elementi fondamentali che dovete tenere in considerazione ma questo modello organizzativo perché cosa è stato strutturato è stato strutturato per la gestione delle risorse che sono state attribuite con il con il innanzitutto col dispositivo di ripresa e resilienza il dispositivo di ripresa e resilienza è lo strumento attuativo del next generation eu che l'iniziativa portata avanti dall'unione europea proprio per sostenere gli stati membri a seguito della pandemia come dicevamo in premessa ed è un dispositivo di ripresa e resilienza cuba per quanto riguarda l'italia per 191,5 miliardi di euro da impiegare nel periodo 21 2021 2026 quindi entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere utilizzate le risorse e ci tengo anche a precisare che a segnalarvi che il dispositivo di ripresa e resilienza quindi 191 miliardi sono composti da una duplice componente sempre perché partiamo dall'esperienza dei fondi strutturali quindi sia noi quindi sia l'italia che l'unione europea ha ben presente quelle che sono le difficoltà oggettive nell'utilizzo sono state le difficoltà oggettive nell'utilizzo dei fondi strutturali per cui il dispositivo di ripresa e resilienza ha due componenti una prima componente di 69 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti quindi le sovvenzioni ovviamente sono a fondo perduto i prestiti invece andranno restituiti dall'italia questo perché questa duplicità di componenti perché non si vuole che gli stati membri non chiaramente solo l'italia ma tutti gli stati membri anche se è opportuno evidenziare che l'italia ha chiesto il massimo sia di sovvenzioni che di prestiti la disponibilità totale è stata richiesta però in questo modo così si vuole incentivare lo stato membro ad essere puntuale nell'attuazione del PNRR a non disperdere in alcun modo le risorse attribuite accanto ai 191 miliardi e mezzo attribuite all'italia dal dispositivo di ripresa e resilienza ci sono ulteriori risorse finanziarie che vanno a sostenere l'attuazione del PNRR in particolare lo sviluppo il fondo di sviluppo e coesione che contribuisce per 15,6 miliardi di euro poi il fondo nazionale complementare che è il fondo le sono le risorse che il governo ha stanziato per i progetti che non sono coperti da fondi europei e ancora il ci sono altri 13 miliardi del fondo react e quindi fondi di iniziativa europea in realtà qui nella slide sono previsti sono indicati 13 miliardi per l'italia ma in realtà è una notizia di alcuni giorni fa la commissione europea ha stanziato per l'italia un altro miliardo e quattrocento milioni per cui si tratta di 14,4 miliardi di euro assegnati all'italia per il fondo react e quindi per un complessivo di spannometricamente di 235 miliardi di euro il PNRR è ben chiaro su una serie di iniziative innanzitutto ha definito ha cercato di darsi il legislatore ha cercato di dare al PNRR una struttura chiara puntando soltanto su una serie di obiettivi senza disperdere in mille riboli i finanziamenti per cui il PNRR è strutturato in 6 missioni 16 componenti 197 misure 63 riforme e 134 investimenti all'interno del PNRR ci sono 527 traguardi obiettivi e adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta allora le priorità del PNRR abbiamo innanzitutto la transizione verde la transizione verde come vi dicevo perché il PNRR è figlio del Green Deal europeo quindi comunque la sostenibilità ambientale è una priorità della Commissione europea della Presidente van der Leyen e dalla quale non si può prescindere perché ricordiamo che gli accordi di Parigi del 2015 comunque impegnano gli stati membri ad arrivare ad emissioni una riduzione corposa delle emissioni quindi prima emissione transizione verde una seconda emissione la transizione digitale perché la transizione digitale è fondamentale per un l'innovazione quindi per avere uno stato o un paese più produttivo e ancora l'istruzione e la ricerca la salute e la resilienza d'altronde essendo il PNRR come vi dicevo in apertura figlio della crisi pandemica non poteva essere diversamente le infrastrutture per la mobilità sostenibile è la quinta missione è l'inclusione è la coesione sono è la sesta missione allora questi interventi prioritari come vi dicevo in precedenza sono fondamentali sono fondamentali e dovranno essere attuati entro il 31 dicembre 2026 ci tengo a sottolineare che il le priorità e queste priorità sono strutturate sulla base di una serie di riforme strutturali ed investimenti perché riforme strutturali investimenti prima si fanno le riforme e poi successivamente si faranno gli investimenti sempre perché questo ci nasce dal discorso della dall'esigenza della dall'esperienza della della dei fondi strutturali le sei missioni a ciascuna delle sei missioni è attribuito un importo corposo una dotazione finanziaria come potete vedere dalla slide la dotazione finanziaria più consistente è attribuita alla transizione verde cioè alla missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica che ha una dotazione finanziaria di 59,33 miliardi qui stiamo parlando soltanto dei 191 miliardi e mezzo del dispositivo di ripresa e resilienza quindi non di tutto il PNRR delle altre dotazioni finanziarie quindi delle altre componenti finanziarie che contribuiscono a finanziare il PNRR poi a seguire dalla transizione verde come potete vedere c'è la digitalizzazione innovazione e competitività e cultura è un elemento fondamentale è un elemento fondamentale digitalizzare il paese portare la banda ultralarga in consentire che la banda ultralarga sia portata effettivamente in tutti i centri abitati quindi una connessione e per sopperire a quello che è il digital divide delle di molte comunità e ancora abbiamo 25,13 miliardi destinati alle infrastrutture per la mobilità sostenibile 30,88 miliardi per l'istruzione e la ricerca 19,81 per l'inclusione e la coesione e 15,63 per quanto riguarda la salute vi dicevo che il PNRR proprio partendo dall'esperienza dei fondi strutturali richiede che ci siano prima di tutto delle riforme strutturali del paese queste riforme sono state sono diciamo tipizzabili in tre macro riforme orizzontali riforme abilitanti riforme settoriali le riforme orizzontali sono quelle che impattano sulla natura trasversale ovviamente e ve le ho semplificate come la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della giustizia le riforme abilitanti invece sono riforme che hanno sono finalizzate proprio a garantire la piena attuazione del piano nello specifico norme di semplificazione e nel caso ancora più specifico del nostro webinar rotierno per quanto attiene il profilo della semplificazione degli appalti pubblici e poi le riforme settoriali, riforme quindi su temi specifici e stiamo parlando di riforme e di riforme tipo il lavoro, le politiche sociali, la famiglia eccetera queste riforme vi segnalo sono in corso infatti non so se avete contezza dell'operato quotidiano del governo però nel frattempo in questi mesi sono state approvate una serie di riforme o di leggi delega o in corso di conversione una serie di disegni di legge delega in particolare abbiamo la riforma della carriera degli insegnanti abbiamo l'istituzione di un sistema di formazione per la qualità per le scuole l'istituzione di un sistema di certificazione della parità di genere la legge annuale sulla concorrenza la riforma della giustizia e abbiamo anche la riforma del codice degli appalti quindi all'interno del PNRR che ci tengo a ribadirlo nasce dall'esperienza dei fondi strutturali quindi ci portiamo dietro purtroppo quello che è la, diciamo, la, tra virgolette, cattiva reputazione dell'utilizzo dei fondi strutturali sia da parte della commissione che da parte degli altri stati membri i quali hanno fatto abbondantemente pesare questa esperienza nella definizione poi di tutti quelli che sono gli step che devono essere raggiunti e come sono quantificati gli obiettivi, diciamo, il cronoprogramma del PNRR il cronoprogramma del PNRR è dato da due elementi fondamentali innanzitutto i traguardi e gli obiettivi i cosiddetti, utilizzando il termine inglese, milestone e target il traguardo è un risultato qualitativo oggettivamente verificabile nell'ambito dell'attuazione degli interventi quindi traguardo rappresenta un risultato qualitativo l'obiettivo invece rappresenta un risultato quantitativo e concreto oggettivamente verificabile all'interno di ciascuna missione sono stati individuati traguardi e obiettivi precisi, puntuali e soltanto a fronte dell'effettivo raggiungimento di questi traguardi e obiettivi l'Italia avrà il riconoscimento delle risorse finanziarie previste infatti su base semestrale l'Italia è tenuta a trasmettere una relazione agli organi della Commissione Europea proprio per questo controllo di cui vi parlavo i traguardi e gli obiettivi sono stati calendarizzati sulla base di scadenze semestrali nel secondo semestre del 2021 l'Italia aveva 51 tra milestone e target e sono stati raggiunti tutti quanti nel 2022 ne abbiamo già 183 traguardi e 17 obiettivi e così via ora c'è stato c'è un po' di polemica politica sul raggiungimento di questi traguardi e obiettivi perché i traguardi e gli obiettivi sono oggettivamente complicati da raggiungere sono traguardi che impegnano in primis le amministrazioni centrali però a cascata tutte le altre amministrazioni e proprio per questo motivo è necessario un impegno collettivo da parte di tutti gli organi dello Stato anche perché come vi dicevo prima il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi è alla base del trasferimento delle richieste di pagamento italiane in pratica come funziona l'Italia ogni sei mesi trasmette alla Commissione Europea una richiesta di pagamento debitamente motivata a fronte della richiesta italiana e la Commissione valuta in via preliminare se sono stati raggiunti i traguardi e gli obiettivi quindi c'è un controllo puntuale da un punto di vista tecnico se i traguardi sono stati raggiunti in misura soddisfacente e quindi vi è una valutazione tecnica positiva da parte della Commissione Europea la documentazione, la richiesta di pagamento dello Stato membro viene trasferita al Comitato Economico e Finanziario che è il comitato composto dai Ministri e dai rappresentanti delle banche delle banche centrali, degli Stati membri e dei governi e che proprio deve verificare l'area effettiva realizzazione di questo cronoprogramma se il parere del Comitato Economico e Finanziario è positivo nulla questo la Commissione comunque procede al pagamento della quota semestrale spettante allo Stato membro nel caso in cui invece il parere del Comitato Economico e Finanziario o della Commissione stessa è negativo o vi sono dei dubbi il pagamento viene sospeso e c'è la sospensione da parte della Commissione Europea e si interrompe soltanto quando lo Stato membro dimostra di aver conseguito nei termini gli obiettivi che erano stati prefissati se tuttavia lo Stato membro non dovesse attuare quelli che sono gli obiettivi nei termini è necessario che la Commissione attiva la riduzione proporzionale del contributo finanziario e se entro 18 mesi dal termine della decisione di approvazione del dispositivo di ripresa e resilienza la Commissione può decidere di disimpegnare l'importo quindi il meccanismo di controllo che vi ho appena illustrato come potete capire è molto rigido è un meccanismo finalizzato proprio a un puntuale controllo delle spese da parte dello Stato membro tenete conto anche che in fase di approvazione del Next Generation EU quindi dell'iniziativa della Commissione tesa a finanziare i piani nazionali di ripresa e resilienza è stata introdotta su esplicita richiesta dei paesi, dei cosiddetti paesi del nord Europa i paesi frugali, i cosiddetti frugali quindi in particolare l'Olanda è stato inserito un meccanismo di freno a mano un meccanismo che consente comunque a uno o più stati membri laddove vi siano delle situazioni o comunque dei dubbi circa l'effettivo utilizzo delle risorse da parte dello Stato membro di bloccare il pagamento e o perlomeno di chiedere nell'immediato una valutazione da parte del Consiglio europeo quindi sul corretto utilizzo delle risorse da parte dello Stato membro per cui come ben potete comprendere questi traguardi obiettivi questo cronoprogramma così serrato è un cronoprogramma che serve fondamentalmente per il controllo da parte della Commissione europea e degli altri Stati membri è una forma di controllo reciproco per il corretto utilizzo delle risorse corretto utilizzo delle risorse che è basato su una serie di principi trasversali abbiamo principi trasversali a tutte le sei missioni che abbiamo visto in precedenza abbiamo la transizione digitale che poi porta con sé chiaramente la digitalizzazione della PA e quindi anche della contrattualistica pubblica abbiamo come principio trasversale la transizione verde e il Dnsh not significant harm che adesso poi vi illustrerò e abbiamo ancora la parità di genere giovani e di vari territoriali Allora, innanzitutto tra i principi trasversali la transizione verde e gli Dnsh come vi dicevo in premessa il piano nazionale di ripresa e resilienza si inserisce in quello che è il Green Deal europeo la sostenibilità ambientale quindi è una priorità della Commissione europea a livello generale in attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015 e si esplicita a livello nazionale nell'obbligo che tutti gli interventi previsti nei PNRR nazionali non debbano arrecare nessun danno significativo all'ambiente da nessun danno significativo all'ambiente è la traduzione del principio del Dnsh do not significant harm in pratica che è fondamentale proprio per tutti gli investimenti previsti dal PNRR ma in che cosa si concretizza? è necessario che ogni intervento previsto nel PNRR non arrechi un danno significativo bisogna andare a verificare che ogni intervento previsto dal PNRR non arrechi un danno significativo all'ambiente in particolare non deve portare a significative emissioni di gas serra non deve avere un impatto negativo sul clima e sulle persone sulla natura e sui beni non deve essere dannoso per i corpi idrici quindi non deve produrre inquinamento idrico sia sui corpi idrici superficiali sotterranei o marini non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo dei materiali recuperati o riciclati quindi per quanto riguarda l'economia circolare e non deve determinare un aumento di inquinanti nell'aria nell'acqua o nel suolo e non deve essere dannosa per gli ecosistemi quindi il Dnsh è un principio fondamentale e trasversale per tutto gli interventi inclusi nel PNRR tenete conto che una condizionalità imposta dalla Commissione europea è che tutti i piani nazionali di ripresa e residenza debbano includere debbano concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica quindi questo principio è fondamentale è fondamentale perché impone e costringe tutte le amministrazioni a una puntuale analisi degli interventi posti in essere proprio per verificarne la per verificarne la il rispetto a tal fine la ragioneria generale dello stato il servizio centrale per il PNRR ha rilasciato una circolare del 30 dicembre 2021 numero 32 relativa proprio a questo punto cioè a una guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente destinata a tutte le amministrazioni è una guida molto importante che consente di capire innanzitutto perché fornisce un inquadramento complessivo del principio del DNS H non è una cosa facilissima tant'è che la ragioneria generale dello stato ha ritenuto opportuno fare una sorta di checklist di controllo che consente all'amministrazione effettivamente di valutare se i propri interventi sono meno conformi con il principio del DNS H tenete conto peraltro che il principio del DNS H e quindi della sostenibilità ambientale è una è una priorità anche da parte del governo una priorità da parte del governo che si è estrinsecata nel mese di dicembre nella direttiva Draghi cioè la direttiva che del presidente del consiglio dei ministri per tutte le amministrazioni statali con la quale il presidente del consiglio ha inteso rafforzare un meccanismo istituzionale e amministrativo finalizzato per assicurare la coerenza delle politiche di investimento pubblico con gli obiettivi di sostenibilità in pratica la direttiva Draghi si inserisce in un percorso che l'Italia aveva già avviato con il con il decreto legge 111 del 2019 un percorso finalizzato alla sostenibilità ambientale e che ha portato peraltro a modificare le competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica il Cipe e che dal primo gennaio del 2021 è diventato comitato interministeriale per la programmazione economica è lo sviluppo sostenibile per quale motivo è stata fatta questa modifica per garantire che tutte le decisioni pubbliche di investimento che vengono deliberate dall'odierno CIPES contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi un percorso che inizia per l'Italia nel 2019 che trova adesso conferma con la direttiva del Presidente del Consiglio e con il principio del DNSH per quanto attiene il PNRR tenete conto inoltre che questo rileva in particolare per le amministrazioni centrali dello Stato che la direttiva Draghi prevede che il CIPES adotti entro il corrente anno quindi entro il 2022 una propria delibera finalizzata alla definizione all'individuazione di linee guida generale e indicatori di sostenibilità sulla cui base dovranno essere presentati e valutate tutte le istruttorie delle opere sottoposte al finanziamento da parte del CIPES e a tal proposito il primo ministero che ha sviluppato questo meccanismo di individuazione dei criteri di sostenibilità è stato il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che già nei mesi scorsi ha elaborato delle proprie linee guida finalizzate proprio a fornire le indicazioni per una progettazione sostenibile degli interventi o una sostenibilità degli interventi quindi transizione verde e dnsh principio trasversale passiamo al secondo principio trasversale quindi se il dnsh e quindi la transizione ecologica è un principio che pervade tutto il pnr ma che ha origine nelle politiche ambientali europee e internazionali la parità di genere i giovani di vario territoriale è un principio introdotto nell'ordinamento italiano per volontà del parlamento infatti la cosiddetta clausola del 40% è stata introdotta dal parlamento in sede di conversione del decreto legge 77 del 2021 ed è tesa ad assicurare che almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza sia destinato alle regioni del mezzogiorno questa clausola è stata oggetto di una circolare del ministro per il sud e la coesione territoriale rivolta a tutte le amministrazioni centrali proprio finalizzata al rispetto del vincolo di destinazione un vincolo di destinazione che ha suscitato qualche polemica politica ma che comunque è fondamentale per perché impatta su scelte non rinviabili nel paese proprio il ministro franco il ministro dell'economia e delle finanze nel corso della conferenza stampa della settimana scorsa ha dichiarato proprio che comunque il 40% delle risorse dovrà essere allocato nelle risorse del sud e che per il conseguimento di tale risultato si adotteranno tutti gli strumenti è chiaro che la clausola messa così è oggettivamente complicata sta creando difficoltà sta creando difficoltà non è facilissimo andare a definire un criterio di risorse per attribuire il 40% delle risorse al mezzogiorno e chiaramente ci sono delle difficoltà attuative però è una si può rispettare è importante per il paese serve per conseguire quelli che sono gli obiettivi che vi dicevo sempre in premessa del PNRR ops quindi clausola del 40% la transizione digitale e siamo al terzo principio trasversale rappresenta il 25,1% dello stanziamento complessivo del PNRR e ha al proprio interno una serie di progetti è chiaro che l'innovazione digitale è fondamentale per la pubblica amministrazione l'innovazione digitale per la pubblica amministrazione rappresenta un momento di semplificazione consente a garantire la qualità dell'operato della pubblica amministrazione la trasparenza della pubblica amministrazione la concorrenza dell'attività della pubblica amministrazione sono tutti principi che per chi gestisce che opera all'interno della pubblica amministrazione sono ben chiari e sono ben chiari anche per il cittadino che pretende che il rapporto con la pubblica amministrazione sia semplice sia trasparente in tal ottica il PNRR si sta muovendo particolarmente e la digitalizzazione impatta anche su quelle che sono le modalità di affidamento dei contratti pubblici modalità di affidamento dei contratti pubblici che sono state viste e per il che sono considerate dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza riforme abilitanti in realtà per quanto riguarda gli appalti pubblici ci sono due momenti che bisogna tenere presenti uno è le riforme che sono state adottate immediatamente dal governo dal governo con il decreto legge 77 finalizzate all'attuazione del PNRR quindi riforme sul codice dei contratti sul decreto legislativo 50 del 2016 che si inseriscono fondamentalmente sulle riforme che erano già state portate avanti nel corso dei precedenti anni da ultimo con il decreto legge 76 del 2020 il primo decreto legge semplificazione e ancor prima col decreto legge 32 del 2019 un percorso di semplificazione del codice dei contratti che chiaramente denota una complessità della materia ma soprattutto una complessità della normativa che ha necessità di una riforma complessiva proprio per questo motivo all'interno del PNRR è prevista una riforma organica della disciplina degli appalti pubblici una riforma organica che è stata già portata avanti dal Consiglio dei Ministri che il 30 giugno ha approvato la legge delega il disegno di legge delega in materia di contratti pubblici si tratta di un disegno di legge che è attualmente all'esame del Senato che deve entrare in vigore tuttavia entro il 30 giugno del 2022 e che poi dovrà essere conclusa perché è un disegno di legge delega quindi creerà ci saranno poi i decreti legislativi attuativi che dovranno entrare in vigore entro il 30 marzo del 2023 tenete conto che la riforma dei contratti pubblici è specifica e necessita proprio di un è necessaria ed è diciamo individuata nella misura M1C1 del PNRR quindi rientra tra i nostri milestone tra le milestone del del PNRR la digitalizzazione degli appalti pubblici quindi è prevista specificatamente nella componente M1C1 in quanto elemento fondamentale della riforma della della degli appalti pubblici e all'interno del PNRR si inserisce anche quello che è il recovery procurement platform che è un programma di supporto alle amministrazioni e agli operatori del procurement quindi con una serie di misure di sostegno e di finanziamento per la formazione e il tutoraggio e si prevede ulteriormente un rafforzamento del ruolo di CONCIP e un'evoluzione del sistema di procurement di digitalizzazione end to end e a proposito della degli appalti e della semplificazione degli appalti è un tema caldo anche secondo le amministrazioni locali e regionali che devono attuare questo le misure che ad esse competono il 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 governo pertanto proprio in attuazione di queste esigenze sta valutando un'ulteriore misura di semplificazione quindi su materia di appalti nell'emore dell'entrata in vigore del nuovo codice quindi del 2023 questo è importante evidenziarvelo quindi all'interno del PNRR ci sono delle misure finalizzate proprio a sostenere però le amministrazioni nell'ambito della della formazione del procurement e quindi degli appalti pubblici la digitalizzazione delle procedure di gara è fondamentale in quanto fondamentalmente rappresenta una forma di garanzia una forma di garanzia per gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara ma anche una forma di semplificazione infatti la digitalizzazione è una svolta per il sistema degli appalti pubblici una svolta che bisogna dire non è che nasce oggi non nasce col PNRR è un percorso che è già iniziato da lontano io vi ho individuato una serie di date di provvedimenti che sono stati diciamo hanno un peso storico nell'ambito del procurement quindi della digitalizzazione degli appalti pubblici in particolare il DPR 101 del 2002 che prevedeva già le modalità per le procedure telematiche di acquisto e per l'approvvigionamento di beni e servizi il decreto legislativo 163 del 2006 il codice dei contratti vigente prima dell'attuale la legge di bilancio 296 del 2006 che ha previsto che tutte le amministrazioni statali e centrali siano obbligate a ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi e quindi un momento storico e poi il decreto legge 95 del 2012 che ha previsto un attribuito a CONSIP lo sviluppo e la gestione di un servizio di un sistema informatico di proprio la digitalizzazione degli appalti pubblici rappresenta anche un salto di qualità per l'amministrazione perché consente effettivamente all'amministrazione di mettere a fattore comune tutte le proprie risorse infatti l'interoperabilità delle banche dati è uno degli obiettivi della digitalizzazione degli appalti pubblici una digitalizzazione che il decreto legislativo 50 del 2016 in realtà prevedeva prevedeva era la norma era prevedeva espressamente che entro un anno stiamo parlando del 2016 quindi il legislatore auspicava che fosse che ciò avvenisse entro il 2017 che entro un anno l'intero ciclo di appalto quindi complessivo dalla pubblicazione fino alla stipula del contratto fosse attuato per via fosse realizzato attraverso strumenti digitali quindi l'articolo 44 prevedeva entro un anno la definizione di un decreto di un regolamento che definisse le modalità digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni quindi digitalizzazione è interconnessione per interoperabilità fondamentali elementi fondamentali tenete conto che la digitalizzazione dei contratti pubblici secondo delle stime della banca mondiale dovrebbe produrre risparmi compresi tra il 6 e il 13,5% della spesa pubblica quindi un risparmio consistente sulla spesa pubblica l'articolo 44 trova attuazione nel 2021 ad agosto del 2021 finalmente dopo sei anni è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 2021 numero 148 è un decreto fondamentale perché consente di contribuire a snellire a contribuire a snellire a semplificare le procedure di appalto e l'obiettivo del legislatore era quello di non trasporre le procedure di gara cartacee in digitale ma di fare un qualcosa di più cioè di ripensare radicalmente quello che era il rapporto tra la stazione appaltante e l'operatore economico in particolare l'obiettivo del DM 148 è di abbreviare ridurre i termini dell'appalto quindi tutto il ciclo dell'appalto ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese facilitare i controlli per quella interna connessione per interoperabilità di cui si parlava prima e che il legislatore ha inteso esplicitare così chiaramente nell'articolo 44 del 50 e inoltre eliminare totalmente il condizionamento umano nella gestione delle procedure di gara quindi una misura anche finalizzata all'eliminazione di episodi di corruzione quindi attraverso il decreto ministeriale 148 del 2021 che bene dire interesserà tutte le piattaforme di procurement perché tutte le piattaforme dovranno adeguare le proprie piattaforme alla DM al nuovo regolamento e avranno l'occasione anche di finalmente di risolvere una serie di problematiche che già interessavano le piattaforme di procurement che sono ovviamente quelle delle grosse amministrazioni utilizzate delle grosse amministrazioni o altrimenti quelle che vengono che vengono tra virgolette noleggiate prese utilizzate messe a disposizione da provider privati però c'è da dire che si sentiva l'esigenza di una uniformità di tutte queste piattaforme anche il TAR e il Consiglio di Stato avevano avuto occasione purtroppo di esprimersi sulla disomogeneità di più piattaforme disomogeneità che portava anche alla predisposizione dell'ex specialist di gara quindi di bandi con degli oneri molto pesanti per gli operatori economici e quindi il Consiglio di Stato anche in una recentissima sentenza del dicembre 2021 diceva proprio questo cioè che la stazione appaltante non può imporre degli oneri così gravosi sull'operatore economico in termini di adozione di caratteristiche tecniche informatiche o di dotazioni infrastrutturali tecnologiche che non sono necessariamente alla portata di tutti gli operatori economici che comunque rappresentavano un onere quindi il DM148 fa questo impone una una uniformità di standard tecnologici di caratteristiche di caratteristiche in modo tale da allinearle tutte quante alle migliori pratiche sia nazionali che europee in questo modo si conseguiranno quindi i risparmi una semplificazione dei processi e chiaramente anche una diminuzione dei costi di gestione e ci sarà anche la riduzione ovviamente dei contenziosi perché l'obbligo di avvalersi di una piattaforma di procurement consente sì di innanzitutto se parliamo delle procedure di gara cartacee le vecchie procedure cartacee verranno meno tutti quei contenziosi relativi alla segretezza dell'offerta non so se ricordate tutte le pronunce dei vari tar del Consiglio di Stato in merito alla ceralacca apposta sulle buste alle firme dei legali rappresentanti degli operatori economici che dovevano essere apposte su tutti i documenti di gara queste ovviamente sono state poi superate da una serie di evoluzioni normative però certamente le gare fatte cartacee hanno posto dei grossissimi problemi ma anche come vi dicevo in precedenza le gare di procurement realizzate con piattaforme di procurement non sono state da meno hanno avuto delle grosse difficoltà proprio per la difformità di standard tecnologici utilizzati dalle diverse piattaforme il DM 148 costa di 29 articoli articolati in principi generali gestione digitale delle procedure di acquisto e negoziazione disposizioni finali nello specifico i contenuti del DM mettono in luce i principi generali dei processi per l'accesso digitale al sistema telematico in particolare l'accesso telematico avviene mediante speed e questo è importantissimo perché si incanala finalmente una si incanala una modalità di accesso di dialogo tra il soggetto privato e l'amministrazione attraverso lo speed così come peraltro previsto oramai per tutte le relazioni con le amministrazioni centrali quindi anche per le procedure di gara e anche per l'utilizzo delle piattaforme di procurement sarà necessario lo speed e attraverso l'accesso al sistema telematico ci sarà un codice alfanumerico e quindi che verrà attribuito all'operatore in questo modo ciascun operatore avrà un proprio profilo e questo garantisce chiaramente la tracciabilità tracciabilità del sistema telematico quindi di tutte le operazioni che vengono svolte sia dall'operatore e dall'operatore economico sia anche dalla 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 stazione appaltante quindi sempre nell'ottica della della maggiore trasparenza il DM148 prevede inoltre che tutti gli scambi tra utenti e sistema telematico avvengano utilizzando il domicilio digitale quindi attraverso la PEC questa è la regola generale e la regola la regola residuale prevista dal comma 2 prevede che soltanto nel caso in cui l'utente non sia dotato di PEC il sistema telematico consenta di eleggere domicilio digitale presso il sistema stesso questi contenuti comunque impattano notevolmente su alcune piattaforme per esempio sulla piattaforma Consip la piattaforma Consip nel proprio regolamento interno prevedeva che invece tutte le le conversazioni le comunicazioni scusate le comunicazioni tra stazione appaltante e operatorio economico avvenissero all'interno del sistema invece in questo modo si utilizzerà la PEC per tutte le comunicazioni e questo è estremamente interessante e anche elimina una serie di dubbi interpretativi che ci sono stati in merito a quella che è la la possibilità di errori di ritardi nella comunicazione proprio il fatto di avere questo diciamo questa piattaforma unica che gestisce tutto l'appalto dalla determina fino alla fase di aggiudicazione del contratto e di sottoscrizione del contratto consente anche di avere una gestione digitale della documentazione di gara una gestione digitale della documentazione di gara che avrà anche poi un impatto fondamentale su quello che sarà l'eventuale ipotesi di accesso agli atti di gara e infatti sarà il decreto ministeriale prevede espressamente che il sistema telematico debba consentire di presentare istanze di accesso agli atti e la messa a disposizione di tutti i documenti laddove ovviamente vi siano i presupposti è fondamentale si va nell'ottica quindi della digitalizzazione complessiva della della procedura di gara il legislatore ritiene fondamentale che anche diciamo endoprocedimenti collegati alla procedura di gara vengono ricondotti alla piattaforma quindi nel fascicolo elettronico confluiranno tutti quanti i dati della procedura il il decreto ministeriale prevede altresì che abbiamo detto quindi la tracciabilità degli accessi ve lo dicevo in precedenza ed è fondamentale proprio per garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato e l'ADM prevede altresì la necessità che la piattaforma garantisca elevati standard di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali e quindi utilizzando tutti quelli che sono gli strumenti tecnologici che sono disponibili ad oggi quindi la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali il DM prevede anche che proprio nell'ottica di digitalizzazione della procedura e di interoperabilità della interoperabilità delle banche dati prevede che la piattaforma consenta di svolgere tutte le operazioni previste per un bando di gara dall'acquisizione del codice identificativo di gara CIG fino all'interoperabilità con le altre banche dati e prevede anche che tutto l'operato della commissione di gara sia gestito attraverso la piattaforma questo è molto utile e consentirà consentirà alla stazione appaltanti quindi alle commissioni di gara di operare direttamente su piattaforma quindi consentendo la massima trasparenza per quanto riguarda il rapporto anche la conoscibilità e la pubblicità dei lavori realizzati e la piattaforma consentirà anche la valutazione delle offerte tecniche quindi l'esame delle offerte tecniche e successivamente il calcolo del punteggio eventualmente per l'attribuzione del punteggio per le offerte tecniche e la piattaforma le piattaforme dovranno anche garantire le gestioni telematiche delle sedute di gara con la registrazione delle sedute e la segretezza quindi è importante ribadirlo la piattaforma ha la finalità di gestire tutto quanto il ciclo dell'appalto dalla fase di dalla delibera di avvio della procedura di gara sino alla conclusione compresa quindi la fase di gestione della commissione di gara e anche la fase dell'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l'inserimento nel fascicolo informatico nonché l'acquisizione del contratto e l'inserimento nel fascicolo informatico del contratto stesso la banca dati ha un decreto ministeriale puntando come vi ho detto in precedenza sull'interoperabilità dei sistemi prevede espressamente che le banche dati si interfaccino con che cosa? con il CMAP con il servizio contratti pubblici con la WCPAS con il CMOG e con la banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i vari sistemi necessari quindi la PEC lo SPID il sistema pago PA perché il sistema pago PA perché è previsto anche che tutti i che tutti i pagamenti necessari per la partecipazione alla gara quindi fondamentalmente il contributo la WCP e il contributo all'ANAC e sia effettuato attraverso la la piattaforma di la piattaforma digitale a tal proposito vi segnalo visto anche una domanda sulla interoperabilità e ritengo importante il sistema previsto dal decreto ministeriale 148 prevede che ci sia la interoperabilità anche con la banca dati nazionale dei contratti pubblici questa è una modifica che è stata portata col decreto legge 77 del 2021 che è andata ad impattare sull'articolo 81 del decreto legislativo 50 del 2016 quindi sul codice dei contratti e che prevede espressamente che la stazione appaltante effettui la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l'interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici che dovrà mettere a disposizione il fascicolo virtuale dell'operatore economico quindi in tal modo già per esempio si risponde a un'ulteriore esigenza di interoperabilità tra le banche dati che è chiaramente uno dei problemi grossi che ci sono abbiamo visto più volte che le amministrazioni hanno difficoltà a consentire l'accesso alle proprie banche dati per una forma di ritrosia nel condividerle e per una forma di anche difficoltà operativa perché è inutile negarsi che sono molti i sistemi i sistemi informatici utilizzati con delle modalità che complessivamente hanno sono differenti amministrazione per amministrazione ciò ha sempre ritardato l'interoperabilità però questo decreto ministeriale questo regolamento del 12 agosto 2021 proprio punta a questo e avendo dietro tutto quello che è la dotazione finanziaria della PNRR è evidente che le amministrazioni dovranno comunque consentire l'interoperabilità delle banche dati per una maggiore trasparenza e anche per un controllo complessivo delle operazioni e l'interoperabilità dei dati consentirà anche quindi abbiamo visto l'acquisizione del codice identificativo gara del CIG e consente alla stazione appaltante di assolvere gli obblighi di pubblicazione dei bandi quindi per la fase iniziale e degli avvisi poi di posto informazione e come vi dicevo quindi col pago PA per quanto riguarda il sistema di pagamenti ora il DM 148 del 2021 tuttavia ha un problema all'articolo 2 demanda delle linee guida AGIT la definizione delle regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione di Qualcom A1 comprensive quindi dei flussi degli schemi dei dati degli standard europei di interoperabilità eccetera 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 in pratica rinvia a queste linee guida la definizione delle regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di Qualcom A1 il decreto 148 non prevede un termine entro il quale dovranno essere adottate queste linee guida questo è chiaramente il bullus di questo provvedimento e sembra da che comunque anche da quelle che sono le le dichiarazioni rese dalla dalla presidente dell'ANAC e che queste linee guide verranno adottate a breve è importante che queste linee guida vengano adottate a breve proprio per garantire l'effettività delle disposizioni e della volontà del legislatore anche in quest'ottica di digitalizzazione complessiva delle procedure di gara nell'emore dell'adozione delle linee guida da parte di ARGIT l'autorità nazionale anticorruzione ha comunque pubblicato il bando tipo numero 1 del 2021 il 24 novembre che ha proprio come finalità quella di promuovere l'applicazione uniforme e standardizzata di misure di semplificazione e di digitalizzazione e che di fatto riflette quelle che sono le previsioni del dm 148 2021 in particolare per esempio per quanto attiene le misure di identificazione dell'utente di integrità dei dati e segretezza delle offerte e di pubblicità delle sedute di gara nel complesso e e quindi di fatto il bando tipo numero 1 sopperisce a questo ritardo dell'agit che ci auguriamo un ritardo effettivamente breve perché non perché non è più ammissibile oggettivamente che il paese sia bloccato da ritardi di attuazione cioè è chiaro che il questo decreto ministeriale che era 148 che era previsto da una norma del 2016 ha impiegato sei anni per essere adottato in sei anni le situazioni sono cambiate profondamente è inutile nasconderci che molte delle cose che vi ho illustrato e che sono contenute nel decreto ministeriale sono già a disposizione di moltissime piattaforme di ipro più realmente disponibili per gli operatori economici quindi è chiaro che la prassi diciamo che gli operatori si sono comunque mossi si sono comunque adoperati in un senso di digitalizzazione perciò ci auguriamo che l'Agid rilasci rapidamente queste linee guida consentendo effettivamente un avvio della dell'attività e della digitalizzazione delle procedure di gara io da ultimo vi ho inserito un po' di rinvii ai siti internet che ritengo fondamentali in questo momento per la per seguire questo l'evolversi di questo ragionamento che ho avuto modo di farvi oggi e in particolare vi segnalo il sito italiadomani.gov.it è il sito della presidenza del consiglio che sempre nell'ottica di digitalizzazione delle informazioni della digitalizzazione del paese e rappresenta il punto unico unitario di accesso alle informazioni sul PNRR e anche tutte le amministrazioni che devono presentare bandi che devono che hanno le proprie iniziative non devono pubblicarle soltanto sul proprio sito internet ma sono obbligate pubblicarle sul sito internet italiadomani è una forma di pubblicità di trasparenza molto importante questa perché la conoscibilità delle informazioni è un principio importante una conoscibilità delle informazioni che prevede anche che che prevede anche il ricorso al principio europeo di e-government del once only cioè che una che una amministrazione e che un operatore economico un operatore economico un cittadino inserisca soltanto una volta le proprie informazioni le informazioni necessarie all'interno delle banche dati della pubblica amministrazione non è necessario che vi sia una moltiplicazione di queste informazioni è un principio il once only di e-government molto importante per il quale si sta cercando di fare di portare a casa a breve insomma un'estensione dell'applicazione detto ciò io vi ringrazio dell'attenzione purtroppo gli argomenti sono particolarmente basti e particolarmente interessanti e mi vorrei dedicare allora vediamo un po' alle domande che sono state poste allora alcune le ho viste mentre mentre vi vi illustravo la mia presentazione e allora il c'è uno dei partecipanti che ribadisce lo scollamento tra le amministrazioni locali che hanno bisogno di risorse strutturali per avviare la propria macchina amministrativa per accedere ai bandi ai fondi del PNRR questo è un elemento fondamentale come dicevo prima l'attuazione del PNRR avviene o tramite le amministrazioni centrali quindi direttamente o tramite le amministrazioni locali e regionali è chiaro che le amministrazioni locali e regionali hanno necessità di un supporto hanno bisogno di una di dotazioni di personale hanno bisogno di semplificazione nel proprio operato in tal senso non anticipo nulla che non sia pubblico che non sia reperibile su fonti di stampa e tanto il ministro Brunetta quanto il ministro Franco e il ministro Giovannini si sono impegnati a sostenere le amministrazioni locali e regionali con un nuovo provvedimento che consenta la semplificazione delle procedure che consenta le assunzioni per le amministrazioni locali semplificandole e accelerandole perché chiaramente non ha senso prevedere un rafforzamento delle strutture regionali con dei concorsi che magari ci impiegano 3-4 anni per essere portati a termine quindi applicazione del decreto legge 80 del 2021 che è quello che semplifica le procedure di assunzione nelle amministrazioni e con un iter molto più rapidi e poi altra domanda l'interoperabilità delle banche dati ecco lo dicevo precedentemente l'interconnessione per l'interoperabilità delle banche dati è fondamentale è un principio importantissimo per tutte le per tutte le amministrazioni e molte amministrazioni purtroppo fanno hanno difficoltà ad estendere le proprie banche dati per delle difficoltà tecnologiche ma anche per delle difficoltà culturali chiaro cioè di ritrosia nel voler condividere il decreto le proprie banche dati quindi volerle condividere con tutte quante le altre amministrazioni poi speriamo adesso in un intervento che effettivamente consenta di intervenire a breve il per quanto riguarda il l'entrata il l'entrata al regime di pagopià devono comunque essere accettati i pagamenti con bonifici e i bollettini postali allora in realtà il sistema di pagopià consente la duplice forma di pagamento sia tramite una carta di credito quindi direttamente registrata sulla piattaforma pagopià o altrimenti con l'emissione di di un bollettino postale e è chiaro che il bollettino postale se stiamo parlando di una digitalizzazione se stiamo parlando di una volontà specifica di di digitalizzazione scusate mi sono distratto perché vedo che ringrazio le persone che ci stanno lasciando e adesso cercherò comunque di approfondire ulteriormente i vari spunti di riflessione che stanno venendo fuori che state scrivendo grazie e quindi ritornato al sistema di pagopià è fondamentale è chiaro che se tu vuoi digitalizzare tutta la procedura di gara non puoi certamente accettare che poi ci sia un pagamento con un bollettino postale che costringe l'operatore economico a fare la fila alle poste è chiaro che anche lì si incentiverà al massimo l'utilizzo o di sistemi di pagamento elettronici quindi carte di credito o bonifici online ma anche pagamenti tramite i conti correnti postali ma si va verso la totale digitalizzazione del pagamento allora l'ufficio regionale gara ed appalto di lavori della Sicilia non sarebbe il caso di standardizzare queste diverse piattaforme adottate dagli enti locali esattamente e la standardizzazione delle piattaforme adottate dagli enti locali è proprio la finalità della dm148 e la finalità proprio perché come dicevo in precedenza è necessario che tutte le piattaforme di procurement utilizzino gli stessi standard tecnologici proprio per evitare che l'operatore economico abbia delle difficoltà a partecipare alle diverse procedure di gara è chiaro che se l'operatore di gara l'operatore economico si trova a confrontarsi una volta con la piattaforma di procurement X che prevede una serie di adempimenti tecnologici e l'utilizzo e il possesso di infrastrutture informatiche poi partecipa a un'altra gara con un'altra amministrazione con un'altra piattaforma e quella ne prevede altre è chiaro che a quel punto la digitalizzazione e la non ha più senso e per cui proprio il e tra l'altro è foriera di contenziosi questo è importante ribadirlo perché il Consiglio di Stato ha ribadito più volte come dicevo prima nella recente sentenza del novembre dello scorso anno ha ribadito che non si possono imporre all'operatore economico degli oneri amministrativi tecnologici elevati quindi l'ex specialisti di gara che prevede perché l'ex specialisti di gara che poi normalmente per chi non ha un sistema una piattaforma di procurement propria sono regole tecniche che sono fornite dal gestore della piattaforma quindi da chi fornisce il servizio che vengono riportati poi nell'ex specialisti di gara ma che proprio per la loro complessità tecnica o operativa non consentono effettivamente all'operatore una facilità nella partecipazione alla gara poi questa forse lo scollamento tra amministrazioni locali lo abbiamo visto e per quanto riguarda la rivoluzione culturale è una rivoluzione culturale ma tutto il PNRR è una rivoluzione culturale il PNRR già la suddivisione tra riforme e investimenti è una rivoluzione culturale per l'Italia perché siamo obbligati a riformare il a riformare il a riformare la nostra macchina amministrativa da semplificare quindi proprio in quest'ottica il progetto della delivery unit nazionale si inserisce bene e consente di di sostenere il di sostenere il le amministrazioni e corretto il richiamo all'allegato 3 approvato dalla cabina di regia di quell'articolo 21 del 50 2016 strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici e questo rientra nel recovery procurement platform che come dicevo prima nel corso dell'esposizione è una un'iniziativa attesa proprio alla valorizzazione di la valorizzazione di delle professionalità presenti una valorizzazione che è data anche dalla professionalizzazione è chiaro che il questa professionalizzazione e questa standardizzazione si porterà dietro una un ragionamento cioè quello della riduzione del numero delle stazioni appaltanti è un ragionamento che si sta portando avanti da parecchio tempo con voi sapete che ci sono circa 33.000 stazioni appaltanti in Italia che è un numero eccessivo quindi la professionalizzazione porterà anche a una riduzione delle centrali delle stazioni appaltanti è evidente che verranno superate le ritrosie di molte amministrazioni locali e regionali a accettare forme di aggregazione insomma bisogna ridurre il numero delle stazioni appaltanti più si va verso una professionalizzazione della delle procedure di gara più è necessario che chi fa queste procedure di gara le faccia costantemente quotidianamente cioè non è non è ammissibile che il non è ammissibile che chi fa una procedure di gara ne fa una all'anno sono comunque procedure complicate sono procedure comunque che richiedono competenza esperienza quindi è necessario che si vada verso in quest'ottica e le amministrazioni risorse strutturali personali problemi il comune va bene purtroppo come vi dicevo quindi sulle risorse sulle riforme strutturali per di personale e dotazioni le associazioni sia dei comuni che delle regioni hanno ribadito al governo a livello centrale questa esigenza e si andrà verso comunque un'ulteriore un'ulteriore forma di supporto e di sostegno e poi vediamo c'è la rivoluzione culturale l'abbiamo visto e sono perfettamente d'accordo e basta mi pare di aver risposto a tutte le domande che avete fatto perciò se avete poi ulteriormente delle domande siete ancora in tempo a scriverle in chat se c'è qualche altra domanda altrimenti io lascerei la parola alla dottoressa per la conclusione vi ringrazio e vi auguro buona giornata molte grazie molte grazie per la presentazione che mi pare abbia incontrato il favore di tutti i partecipanti io ringrazio i partecipanti per perché sono sempre tanto attivi e c'è un'ultima domanda o meglio un'ultima osservazione se la vuoi leggere l'ho appena annotata le altre mi pare che siano state tutte tutte risposte intanto approfitto di questo momento di chiusura per ricordare i partecipanti che nel pomeriggio avranno a disposizione la registrazione e le slide e che potranno scaricare verranno attestate le presenze sempre nel pomeriggio dopodiché compilando nell'area i miei eventi e il questionario di gradimento potranno scaricare l'attestato di iscrizione invito tanti non lo abbiano scusa se ti interrompo la domanda così perché sto vedendo molti ci stanno lasciando il DM 148 è in vigore chiaramente sì sì già in vigore perfetto sì sì no usiamo questi ultimi momenti per non lasciare in sospeso le domande anche se poi qualcosa dovesse rimanere in sospeso come al solito lo annotiamo diventerà un momento di ulteriore riflessione e comunque troverà risposta e dicevo continuo mentre escono i partecipanti soltanto una cosa e quanti non lo abbiano ancora fatto sono invitati a compilare la scheda partecipante e questo perché ne abbiamo bisogno per il monitoraggio delle attività di progetto e vi informo che con il prossimo il prossimo mercoledì avremo l'ultimo webinar di quelli calendarizzati ma stiamo lavorando ad un calendario per marzo e aprile visto che gli argomenti sono davvero molti detto questo io ringrazio tutti ringrazio il dottor Mazzotta per la presentazione ringrazio poi per la partecipazione vi auguro un buon proseguimento delle giornate vi do appuntamento alla prossima volta arrivederci